Oggi la vaccinazione per gli ultraottantenni sul territorio del comune di Teramo, quante sono le persone che dovrete vaccinare? Sono 2750 che si erano iscritti sulla piattaforma, più 150, forse saremo anche 200 di persone che hanno utilizzato la formula presso le farmacie, saremo intorno ai 3000 persone, circa 600 ultraottantenni al giorno, nelle 5 giornate. Come stanno andando le cose? L'inizio, come al solito, quando si inizia c'è sempre un po' di fila, un po' di problematica, adesso da San Nicolò mi hanno mandato delle immagini che non c'è più fila, alla stessa cosa il geometri si sta regolarizzando, veniamo da Scapriano dove abbiamo fatto un'ulteriore verifica, le cose stanno andando bene, c'è nella fase iniziale, quando si inizia, un leggero ritardo, ma sono convinto che nel corso della giornata recupereremo e riusciremo a fare ovviamente tutti i vaccini che ci siamo prefissi di fare. Vogliamo ricordare le giornate riservate alla vaccinazione dell'intraottantenni? Le giornate sono ovviamente oggi, dal 24 al 26, il 27 e il 28 ci sarà la sospensione per riprendere l'1 e il 2 di marzo, e laddove le giornate non dovessero essere sufficienti, perché il numero in qualche modo potrebbe aumentare vertiginosamente, scivoleremo nelle giornate successive, così come abbiamo convenuto con l'AS, come abbiamo convenuto con il Dottor Brucchi. Per cui c'è da stare tranquilli, c'è solamente da iscriversi, chi ancora non l'ha fatto, ci sono ancora dei giorni per poterlo fare e quindi aspettiamo numerosi, gli ultrottantenni che non si sono ancora iscritti. Fatto il vaccino come si sente? Come un leone. Più forte? Più forte, allora fa effetto.